Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno, del Festival pensavamo di essercene liberati, oltretutto per noi che ci occupiamo di ciò che scrivono all'estero dell'Italia, Sanremo non è mai stato troppo presente. E invece, quest'anno, grazie alla sempre maggiore risonanza internazionale dello spettacolo, ma grazie soprattutto alla questione Israele e Gaza, ne scrivono un po' ovunque, almeno in Europa. Vado con ordine, ho parecchie notizie in proposito e comincio dalla notizia politica. È il Guardian da Londra, che titola il Festival della canzone italiana di Sanremo, criticato dopo l'appello del rapper Gali a fermare il genocidio. Appello che, dico io a un ascoltatore normale, può sembrare di un'ovvietà quasi infantile da tema delle elementari, e che invece ha suscitato un polverone. Il riferimento ai soli bombardamenti israeliani, senza, diciamo, alcuna par condicio, ha fatto infuriare l'ambasciatore israeliano a Roma, che ha lanciato un tweet di veleno e di rimando anche le comunità ebraiche in Italia si sono allineate. Anche gli ostaggi rapiti hanno bisogno di tornare alle loro case e per loro non sentiamo appelli, ha detto Noemi Di Segni, la presidente dell'Unione delle Comunità. Proteste rinfocolate anche dal fatto che, partecipando a Domenica Inn, il giovane artista tunisino ha rincarato la dose, dicendo che il terrore continua, la gente ha paura di dire basta alla guerra, basta al genocidio, e fra poco non potremo dire nemmeno più viva la pace. L'articolo ricorda infine che altri artisti come Eros Ramazzotti e come Dargen D'Amico hanno fatto appelli analoghi, e che Giorgia Meloni ha avuto modo di dire che un festival musicale non è il luogo adatto per parlare di crisi internazionali, soprattutto se fatto a senso unico. Che dire, ha da passare a nottata. Questione questa, sempre della politica sul palco Ariston, trattata anche dall'agenzia di stampa turca Anatolia, che titola il suo pezzo artisti spagnoli e italiani condannano gli attacchi israeliani a Gaza, che hanno provocato più di 28.000 morti. Non solo Sanremo, infatti, è stato teatro sabato di tanto ardire, ma anche il galà dei Goya Film Awards di Valladolid, il corrispettivo dei nostri David di Donatello. In Spagna è stata soprattutto Alba Flores, la ricorderete, l'indimenticabile e indimenticata Nairobi della Casa di Carta, a rilasciare parole di condanna contro Israele. Però lì molti altri artisti si sono fatti inquadrare con adesivi sugli abiti o sulle mani, con la scritta Stop al commercio di armi, cessate il fuoco a Gaza. Sull'Italia, l'agenzia Anadolu ripete la ricostruzione appena riferita dal Guardian, riferisce poi la reazione degli israeliani, aggiungendo che i riferimenti agli avvenimenti in corso sono anche compresi nel testo della canzone di Gali, quando lui canta, nella sua canzone Casa Mia, stanno bombardando gli ospedali per un pezzo di terra. Copertura internazionale su Sanremo per la politica, dicevo, ma anche per la vittoria di Angelina Mango, soprattutto in riferimento alla qualificazione per l'Eurovision. Manifestazione questa, che da quando si è rinnovata, sta aumentando di importanza di anno in anno, sta diventando qualcosa tipo i campionati di calcio, le Olimpiadi, insomma una cosa importante per lo spettacolo e per la canzone. Il Festival di Sanremo affascina l'Italia, scrive la Berliner Morgenpost. In Italia non si parla d'altro, scrive l'inviata, che vincerà, come saranno vestiti i cantanti, da chi, eccetera, eccetera. E la canzone vincente, continua la Berliner, dimostra che al Festival di Sanremo è in atto ormai da diversi anni un ricambio generazionale. Prima manifestazione europea di questo genere nella storia, prima competizione fra canzoni, il Festival cominciò alla radio nel 1951, la televisione ancora non c'era, con uno spettro musicale notevolmente più limitato. Oggi, invece, è un grandissimo palco, che viene illuminato per 25-30 ore, suddivise in 5 serate, sul quale si lancia ogni tipo di messaggio, poi si canta anche, e a nulla servono gli appelli dei governanti a lasciare fuori la politica. L'articolo è molto interessante, molto lungo, se lo volete leggere ve lo lascio linkato nella newsletter. E chiudo l'argomento, Sanremo, canzoni, con quella che forse è la notizia più golosa, e arriva dal sito greco Ediseis. Il titolo è Eurovisione 2024, la canzone che rappresenterà l'Italia favorita per vincere. Riferisce l'articolo che, forte del fatto che l'Italia è qualificata a prescindere per la serata finale, essendo membro dei Big Five, ovvero dei paesi che pagano di più l'Unione Europea di radiodiffusione, noi al momento, nelle scommesse, siamo al terzo posto, dietro Ucraina e dietro Regno Unito. Bookmakers, quelli europei che spesso hanno azzeccato, come l'hanno per esempio dei Maneskin, che avevano cominciato da subito a dire che vincevano loro. Via da Sanremo, anche se oggi le altre notizie non sono particolarmente appealing, per planare sulla politica, quella sui giornali esteri che parlano di noi non manca mai. E' sempre la berliner Morgenpost che titola Italia, le regine politiche sono in grande duello. I toni si fanno più taglienti, scrive l'articolo, tra la populista di destra Giorgia Meloni e la socialdemocratica Elie Schlein. Per la prima volta nella storia italiana, scrive il quotidiano tedesco, due delle posizioni più potenti del paese sono in mano alle donne e ora, in vista del voto europeo, si avvicina il duello televisivo che entrambe hanno accettato. Nulla del genere era mai accaduto in un ambiente politico come quello italiano dominato dagli uomini. Un dibattito, dunque, che si annuncia come un evento storico, anche se molti dettagli sullo svolgimento restano da concordare. Tutte le emittenti italiane si sono dichiarate disponibili a ospitare il duello, anche se scrive il giornale tedesco, la soluzione più logica sarebbe in casa del servizio pubblico, sarebbe in quanto la RAI ha perso il favore delle opposizioni, la accusano di essere diventata telemeloni e di non garantire più un'informazione imparziale. E qui l'interrogativo principe è su chi modererà il dibattito. Sarà Mirta Merlino, grandama dei talk show politici, ora accasata su Canale 5, o Lily Gruber per un confronto tutto al femminile? Altrimenti ci sono Vespa e Mentana, ma sembrano meno favoriti, anche se due giornalisti di grandissima esperienza. La data potrebbe essere il mese di aprile. Andando verso la conclusione, il presidente argentino a Roma se ne scrive dall'Europa all'America Latina, in riferimento anche all'incontro col Papa, che come scrive Universo Online dal Brasile, lui, Milei, ha già accusato durante la campagna elettorale di rappresentare il diavolo in terra, il male sulla terra. I rapporti tra Papa Francesco e la sua Argentina, del resto non sono mai stati troppo distesi, come spiega anche tra l'altro la Vossa de Galicia, che titola Milei visita l'Italia e cerca di appianare le cose col Papa. Milei, che per l'Italia non ha preparato un calendario formale, ma che a noi tiene molto, in quanto metà degli argentini sono di origine italiana. Bergoglio compreso, che ora Milei non esita a definire come l'argentino più importante della storia. Racconta, sempre la Vossa, dell'abbraccio di domenica mattina in San Pietro, fuori protocollo, durante la canonizzazione di Mamma Antula, la prima santa argentina. Se vedrà la Meloni, nonostante l'affidità politica, non si sa. E sul fronte gossip, l'articolo racconta che appena arrivato a Roma, Milei ha rifiutato l'appartamento, in proprietà, diciamo, presso l'ambasciata argentina, quello dove 70 anni fa dormì e vita per on, per trasferirsi all'ambasciatore di Via Veneto, uno degli hotel più lussuosi d'Italia, alla faccia dei risparmi di stato sbandierati. E poi racconta che subito dopo il check-in, con la sorella, si è fatto aprire il Colosseo per una visita notturna, e poi San Pietro in vincoli per ammirare il celebre Mosè di Michelangelo. Della serie è il mio momento. Ora mi faccio servire. Io ho finito. Anche se mi ero tenuto un articolo greco su come preparare la pasta all'italiana, perché sembra che loro, anche se così vicini, ne mangino delle grandi cofane, per di più di pasta stracotta e condita con grandi quantità di carne. E poi spezzano gli spaghetti prima di cuocerli e li arrotolano nel cucchiaio. Altro che una razza, una faccia. A domani. Ristretto Italiano Di Ruggero Po Ristretto Italiano